Le attenzioni degli amministratori di Palmi sono puntate anche sul piano spiaggia. Il piano fa parte dei piani attuativi del PSC, il piano strutturale comunale approvato dalla passata amministrazione. I ritardi che si sono accumulati negli anni, così come le bocciature da parte degli organi preposti dalla Regione Calabria, hanno consigliato prudenza ai neo-amministratori che hanno evidenziato i passaggi che saranno seguiti prima del via libera definitivo. L'approvazione del piano spiaggia è un passaggio fondamentale per garantire una riorganizzazione corretta di questo territorio, ha affermato il sindaco Giuseppe Ranuccio. Secondo regole ben precise, come mai è stato fatto in passato, abbiamo un'occasione importante, come quella che ci è stata offerta, di far entrare il piano come opera sperimentale del contratto di Costa Viola. In questo modo si avrebbe la possibilità di programmare un futuro armonioso, ha sottolineato il sindaco, di tutta l'area compresa nella Costa Viola. Una vera e propria scelta strategica per favorire lo sviluppo armonioso e socio-economico di questo territorio. Per attuare la riprogrammazione e il recupero di un territorio vasto o quanto bello, serviranno corposi finanziamenti che nelle intenzioni degli amministratori potranno essere recuperati utilizzando un doppio mutuo che era stato acceso per il mercato coperto, della montare di circa 1.200.000 euro, somma alla quale vanno aggiunti ulteriori 500.000 euro provenienti dai patti per il sud. Abbiamo fatto un'opera coraggiosa, ma che ci garantisce l'opportunità di intervenire nella zona della Tonnara, ha continuato ancora il primo cittadino palmese in maniera concreta. La progettazione dovrebbe essere completata entro la prossima stagione estiva, mentre l'avvio degli interventi è ipotizzato prima della prossima estate. Condizione essenziale è l'approvazione del piano spiaggia. L'ultima testimonianza relativa al piano risale al 7 aprile del 2015, quando la giunta del sindaco Giovanni Barone aveva dato il via libera alla assegnazione definitiva dei 14 lotti messi a bando con il piano spiaggia deliberato da quell'esecutivo.